Mi raccontate che mesi avevate? Febbraio Febbraio, ecco, a cosa vi esprimo di vedere lo scatto, volete introdurlo? Allora, abbiamo scelto il mese di febbraio perché è il compleanno di Stella dunque io da buon Adamo mi sono in qualche modo adeguato ad Eva in pratica dunque abbiamo scelto questo mese Sì, abbiamo scelto l'Ulivo come location e ci siamo arrampicati e abbiamo tenuto il palo dall'alto per cui noi stiamo raggiungendo il cielo con l'Ulivo come background Questo è febbraio Sì, un mese un po' buio Allora, quindi qua abbiamo il background dell'Ulivo questo è il Gollum Pure la luce divina che arriva da sinistra Sicuramente è un'opera, come dire, si vede una ricerca artistica si vede anche un affiatamento di coppia nel inserirsi nel contesto bucolico dell'Ulivo Sì, quindi se tu dovessi esprimere un voto sintetico, cosa diresti più o meno? Ma io direi un 7 7? Caspita